Saranno diversi gli appuntamenti in programma Carignano in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, un'antica tradizione delle campagne che si rinnova ai nuovi linguaggi culturali per diffondere il significato delle culture popolari intrecciate alle feste religiose. Il programma partirà venerdì 17 gennaio alle ore 19 con la Messa Vespertina, per poi proseguire sabato 18 alle ore 15 con l'apertura della mostra Laboratorio Creativo, coordinato dal maestro Alfredo Pacassoni ed altri eventi correlati, per poi concludersi domenica 19 alle ore 9.15 con la Messa presieduta dal Vescovo Trasarti e a seguire la processione con la Statua del Santo accompagnato dalla banda musicale Città di Fano, poi benedizione degli animali alle 19.30 spettacolo pirotecnico di chiusura.